Sì! Ah, dai! Ah! Sì! 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 Ti piace quando ti chiamo, eh? Mi piace! Mi fai pazzire! Ah! Sì! Ah! Sì! Ah! Sì! 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 Ehi! Ciao, Eduard! Ciao, Mirli! Aspetti, Ruth? Sì, sono uscito prima dal lavoro. Pensavo di portarla a fare un ticnic. Sembra che abbia così finito di sopra. Sparami! Quella sbarra di cowboy tutto sulla faccia! Come sto? Bene? Sì, stai bene. Bellissimo. Oh, figo. Senti, Eduard, ti scoccia se ti faccio una domanda. Oh, ma figurati. Per te è ok che la tua ragazza si scopi 15 uomini al giorno e si faccia pagare per farlo? Oh, beh, anche il mio lavoro fa schifo. No, va bene, ho capito. Però, insomma, tu ripari scarpe. Ete! Oh, ciao, tesoro! Che cosa ci fai qui? Beh, ho finito presto. Ho pensato che potevamo fare una passeggiata lungo il ruscello. Oh! Oh, hai l'alito, Mippo. Ho appena fatto un po' più. Oh, non fa niente, tranquilla. Tieni, ti ho portato dei fiori. Sono bellissimi. Sì, andiamo. No, no, un fidanzato meraviglioso, Milly! Ah, a dire il vero io. Io non ci capisco un cazzo. Ciao! Oh, ehi, Ruth. Clyde Hodgkins. Voleva passare sul tardi. Che cosa vuole? Credo che voglia anale. Tesoro, così posso comprarti una nuova cintura per andare in chiesa? Oh, ma è fantastico! Che fortuna! Torniamo per le cinque e mezzo, va bene? Penso di sì, va bene. A che ora è l'appuntamento? Ah, qui. Qui non è che siamo dal dentista, Edward. Credo che passerà quando gli verrà voglia di infilare l'uccello in un buco di culo. Allora, alle cinque e mezzo, perfetto. Ok.